Grazie a un caro e simpaticissimo amico che gestisce un centro revisioni auto ho deciso di provare a testare le emissioni dei gas di scarico di questa stufa riscaldante diesel VEVOR Vediamo un po' com'è andata Allora vediamo adesso che si avvia Si sta avviando, misura dell'opacità Io lo riprendo continuo così Ora ci mette un po' ad andare in temperatura Ma neanche all'accensione Io penso che l'apparecchiatura collegata al tubo di scarico sicuramente creerà un restringimento e questo ci porterà a del fumo La temperatura deve salire ancora Ok, vediamo Grazie. Ah, ecco, sta salendo un pelino, eh. Mmm, sale. Non ho mai fatto, forse perché questo lo strozza un po', sai? Questo fumo nero non l'ha mai fatto così. Infatti ora sembra sparito. Lo strumento crea un restringimento e quindi viene fuori il fumo. Adesso lo ricolleghiamo. Infatti ora è sparito. Però mi sa che tra un po' di sale, forse qualcosa gli dà una strazzatura e lo fa bruciare male. No. È sparito. Facciamola andare un po'. Esce, sì. Probabilmente è l'accensione. Sì. Forse il restringimento all'accensione non è proprio una buona cosa per la combustione. Sì. Provo a spararlo al massimo. Come potenza. But... Come potenza. si sa che gnafa col tubo dentro non ce la fa se lo stappiamo un attimo e poi lo rimettiamo reagisce alla strozzatura però poi scende ancora interessante che quello scarico in realtà dovrebbe essere il più libero possibile forse l'apparecchiatura lo stringe un po' ma non c'è la misurazione quella con la sonda che si mette dentro io mi ricordo un pirulino ah è lunga la sonda comunque non male massima potenza attorno agli 0,25 beh direi che questo conclude il test ecco come è dentro questo coso probabilmente vi ha dato un po' di resistenza all'oddio ah questo è il filtrino ma questa è la lettura di adesso non si vede quasi niente questo si pulisce ogni lettura quindi può essere sporco da prima ci troviamo in un luogo differente per provare ad accendere questo oggetto all'aperto tramite una batteria e vedere i fumi di scarico cosa che non ho mai visto direttamente in uscita dalla marmitta o dal silenziatore chiamiamolo come vogliamo marmitta e silenziatore e tubo che io ho montato dritti perché mi viene più facile trasportarlo in questo modo l'ho lasciato così e quindi va bene allora accendiamo il telecomando e partiamo non so se si vede è partito e adesso aspettiamo di vedere del fumo delle emissioni io lascio andare il video perché penso che il test effettuato presso il centro revisioni sia un po' falsato dal fatto che c'è un'apparecchiatura che va montata sopra il tubo qui e questo crea resistenza e quindi impedisce un flusso di gas di scarico regolare come deve essere per il suo funzionamento e quindi questo ha creato della fumosità e quindi questo ha anche falsato i test specialmente all'inizio perché come abbiamo notato staccando il sensore quindi lasciando bruciare questo in modo libero e poi ricollegandolo le letture erano praticamente bassissime quindi io penso che le letture da tenere in considerazione fatte presso il centro revisioni dal mio carissimo amico che ringrazio sempre e che sia anche molto divertito non lo so penso che siano da considerare in modo un po' più conservativo dal punto di vista della bassa emissione questo coso emette veramente poco perché come vedrete non fa fumo praticamente vediamo se riesco a zoomare intanto è partita la pompetta e vediamo un po' temperatura camera di combustione 53 54 insomma piano piano sale 56 58 allora come vedete non c'è assolutamente fumo neanche all'avvio non c'è assolutamente fumo il bruciatore è estremamente efficiente ma che dire siamo ancora a 83 gradi così non c'è assolutamente fumo la mia abbiamo anche un gadget un preziosissimo gadget o se ridire è un K-gadget temperatura della marmitta ma, legge un po' poco temperatura in basso allo scarico anche qui un po' poco forse deve scaldarsi ancora sono passati 5 minuti 193 gradi la temperatura sale qui non c'è fumo o perlomeno io non riesco a vederlo beh, insomma il bruciatore è perfetto è una cosa incredibile è una cosa incredibile con due B incredibile forse legge male perché c'è il riflesso vediamo dentro è infatti dentro legge sui 138 gradi sono arrivato a leggere temperatura all'interno dello scarico va bene insomma niente fumo io lo lascio andare un po' 226 gradi forse salirà ancora un po' e a questo punto stacco il video perché non ha senso tenerlo acceso e poi faremo lo spegnimento e vedremo se emetterà del fumo ho pensato di fare un altro esperimento e cioè simulare diciamo così un impedimento sull'uscita dei gas di scarico tramite questo barattolo che sicuramente mi si spaccherà tra le mani però proviamo lo stesso a farci del male ora se io ah guardate si forma della condensa quindi la condensazione di acqua è un sottoprodotto giustamente della bruciatura del gasolio vediamo un po' il barattolo è discretamente pulito il problema è che diventa bollente quindi non riesco a tenerlo in mano vediamo se trovo qualcos'altro niente di meglio che un pezzo di marmo e nel frattempo se ci riesco tengo anche d'occhio le temperature in camera di combustione siamo a 243 io non so se si vede perché da qua non ci vedo comunque 243 gradi vediamo che succede che succede e io adesso lo tappo a metà 243 e probabilmente questa cosa va fatta a livello di accensione la temperatura in camera di combustione non varia 242 e però vedete vedete ho lasciato una macchia di fumo quando ho tappato ora provo a lasciarglielo davanti però distante così e vediamo se c'è del particolato che rimane ci vorrebbe una misurazione di tipo diverso insomma glielo lascio su un bel po' se c'è del particolato questo dovrebbe in qualche modo appiccicarsi pensa che si spacca la pietra beh ha pulito la pietra che dire che dire insomma qui ho tappato qui no quindi è importantissimo avere un flusso d'aria libero è importantissimo resta da provare a tappare l'ingresso aria e lo faremo con questa un'occhio alle temperature ed ecco il fumo che esce vedete? va bene abbiamo già provato prova con successo se l'ingresso di aria in aspirazione per la camera di combustione non è sufficiente esso fuma e mi pare anche ovvio temperatura sempre stabile 243 gradi a questo punto lo usiamo la procedura di spegnimento basta tenere premuto qua finché non compare off esatto non si sta spegnendo vediamo se l'ingresso di spegnimento fa fa del fumo non mi pare non c'è fumo non c'è fumo senza arrosto temperature ci vorrebbe un display più completo che mostrasse tutto senza dover usare questo cazzo di telecomando però è molto comodo va bene come avrete capito questo coso non emette fumo tranne se si chiudono i condotti di areazione e di scarico e quindi traete voi le opportune conclusioni sulle emissioni emesse da questo emettitore io sinceramente vorrei dei dati più precisi prima di concludere che questo coso esce così pulito come sembra perché il livello di particolato quando funziona bene è veramente non dico inesistente perché non credo sia possibile tecnicamente però è veramente patteresco che c'è Sta continuando a spegnersi, io volutamente non ho voluto staccare per mostrarvi la realtà. E la realtà è che questo coso consuma poco e niente ed emette poco e niente. L'unità si sta raffreddando e in un prossimo video vorrei parlarvi di alcune cosettine relative a questo oggetto perché non sono ancora del tutto convinto delle modifiche che finora ho fatto e vorrei ritornare all'utilizzo delle linee di alimentazione rigide in nylon. Così in teoria dovrebbe funzionare ancora un pochino più meglio, diciamo così, più meglio. Avremo una combustione più migliore. Ma quando cazzo si spegne sto coso? Comunque è veramente un bello oggetto, è molto pratico, è comodo, come il varano. Basta una batteria. Devo dire, è un bel giocattolo, è un bello scherzo, un'apparecchiatura interessante. Si presta a tantissime modifiche. Ed è anche molto sicura. Ricordatevi, lo scarico sempre fuori. Oh, finalmente si è spento e noi adesso concludiamo questo video mostrandovi... Mostrandovi una ooteca. Questa si chiama ooteca. e contiene gli ovetti di tantissime mantidi religiose. Ognuna di queste righine che si vede è un ovetto di mantide religiosa. Qui ce ne sono tante. Ed ecco a voi una splendida ooteca. Una piccola curiosità. Le mantidi appartengono allo stesso ordine delle blatte. I blattoidei. Quindi quando vedete una blatta, uno scarafaggio, pensate che potrebbe essere anche una mantide. E viceversa. La mantide è un animaletto molto carino che vive nell'erba. Ma si trova un po' ovunque. Vediamo se ve ne trovo una. No. No, però vi trovo un ragno. Eccolo qua. Un bellissimo ragno. Ci sono molte mantidi qui. Ma trovarne una adesso così mi sembra difficile. Io ho un'antica passione per gli insetti. Ne conosco un bel po'. Gli ho studiati per un bel po'. Bene, non ci sono amanti di vaffanculo.